siamo al poligono di valeggio sul miccio qua al mio fianco roberto vezzoli non ha bisogno di presentazione tiratore del beretta shooting team dietro alle nostre spalle la predisposizione della gara del torneo beretta excellence e qua con noi c'è la nuova pistola semiautomatica di beretta pmx s dove se sta proprio per semi auto la pistola la potete forse riconoscere è già in dotazione ad alcune forze di polizia ma questa è la versione sportiva quindi semiautomatica e classificata sportiva a roberto chiediamo quali sono le caratteristiche principali della pmx s bene buongiorno a tutti allora la pistola semiautomatica beretta modello pmx s deriva direttamente dalla versione militare strutturata per l'arma dei carabinieri in questa versione naturalmente al funzionamento solamente semi automatico ma ricordiamo che la cadenza di fuoco nella nella versione militare a funzionamento automatico raggiunge supera di qualche decina di colpi mille colpi al minuto quindi la meccanica è testata e assolutamente rapida e funzionale in questo caso la versione sportiva oltre ad avere il funzionamento solo semi automatico presenta una canna lunga 185 mm con la predisposizione per il montaggio del freno di bocca in questo caso montiamo un twist di beretta le due mire abbattibili sono montate sulla slitta picatinni superiore ricordiamo che l'arma è dotata di serie di altre tre picatinni due sul lato destro e sinistro e una sul lato inferiore sul lato inferiore trova posto anche il finger il finger stop per non andare oltre con la mano durante l'impugnatura due mani volendo si potrebbe montare anche si può montare vertical grip quindi l'impugnatura verticale sulla parte anteriore l'impugnatura della della pmx è identica alla stessa linea di quella della px quindi diciamo che per chi ha un utilizzo familiare con la px trova immediatamente un bel feeling anche con questa con questa impugnatura che dire aggiungo il prezzo perché alla fine ci interessa anche questo la versione pmx s costa 1640 euro direi roberto che a questo punto non ci rimane che andare a provarla a farla cantare un po la facciamo cantare a 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